Si chiamano i tenaci soldatini di piombo Facciamolo E ci presentano un brano con un titolo curioso Papaya Candy Giusto? Mi sembra molto... E' un titolo originale Come? Poi magari se lo facciamo spiegare da loro Però intanto vogliamo lanciare un po' un messaggio Perché la band dietro le quinte Ce l'ha un po' accennato Ce l'ha un po' spiegato il messaggio della canzone Ci hanno detto La gente parla sempre male di quello che non conosce Lo fanno per ignoranza e per paura Il modo migliore per incontrarsi e fare amicizia E mangiare insieme Ma noi stiamo curiosi di sentire che cosa parla questa canzone Loro sono la ultima band in gara Per la categoria Young Talent I tenaci soldatini di piombo Con Papaya Candy Grazie a tutti 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 Grazie a tutti